Ma che fine ha fatto Antonio Cioffi? Il giovane giocatore dell'età di vent'anni Antonio Cioffi, esordito con Napoli in un freddo gennaio del 2021, con una presenza anche l'anno scorso, adesso si ritrova al Ponte d'Era. Il giocatore trova un po' di spazio, ecco un altro giovane italiano ancora non esplodò.